Presentati Ci siamo composti da poco meno di un mese, abbiamo perso un paio di persone per strada, però abbiamo alle spalle dei live. Ognuno di noi, prima anche di formare questa band, ha comunque realizzato delle serate, degli eventi, perciò siamo tutti, diciamo, impastati nel mondo della musica, chi più chi meno, però... Se ne avessi la possibilità, cosa ti piacerebbe fare? Noi ci conosciamo fin da piccoli, penso, vero? Sì, tutti volevamo fare i pompieri da piccoli. No, scherzo. La musica, la musica. Vogliamo fare solo musica. Se lo so non sarà facile, ma per un sogno che vale tutta una vita, basta un attimo, posso chiudere gli occhi. E quella strada, se fosse solo in salita, comincerà, lei mi ha dato forza e coraggio, per aprire quella strada sempre più chiusa. Ma come un timbo che muove il primo passo con fatica, io ho scoperto la vita, sì. Io comincio da qui, senza voltarmi, camminerò. Io comincio da qui, con la mia voce griderò. Ci sono anch'io, ci crederò. E solo per lei non mi fermerò. Fai un appello al pubblico per farti votare. Ragazzi, se vi siamo piaciuti, noi siamo in necessità primaria. Il brano è Io comincio da qui. Non costa niente, mi piace. Ragazzi, realizzate il nostro sogno. Grazie.